Ciao amici e bentornati in questo nuovo video. Finalmente hanno implementato il rango Smeraldo. Finalmente poi, non so perché l'ho detto, perché in realtà a me non può fregar di meno. Anzi, mi scoccia pure che abbiano messo già un rango successivo quando io mi devo ancora approcciare a fare il rango precedente. E proprio del rango precedente vorrei portare all'attenzione delle cose. Ad esempio, il nome. Ma che cos'è? Valanga. Valanga. Lug. Vabbè. Congelante. Poi hanno lasciato Zaru, Ursa, Renard, Aquileas e Endausteros uguali e poi Oscura Artiglio e Ghiacciolo. Ma mi sembrano scherzo perché sono veramente dei nomi orrendi, cioè, quindi non ha senso questa cosa. E ci sono i Mastomale, che hanno cambiato i nomi, poi metà dei nomi... Poi Aquileas e Endausteros, cioè, un nome lungo, una scocciatura così... Eh, l'hanno tolto. Cioè, l'hanno lasciato e non l'hanno tolto... non capisco. Vabbè. Quindi hanno implementato i nuovi draghi che sono sei leggendari. Quindi, manca... se non sbaglio, di solito mettevano il primo mitico direttamente con i leggendari. E di solito i leggendari sono due guerrieri, due cacciatori e due stregoni. E anche in questo caso è così. Allora, abbiamo il primo guerriero. Faccio proprio giusto una breve introduzione di ogni drago. Quindi abbiamo Rugito Intimidatorio, un nuovo... una specie di scudo esplosivo, tipo uno scudo esplosivo. Magie... questa qua, se non sbaglio, è una magia blu, che costa una tacca di rabbia. E poi resistenze buone, quindi... un bel draghetto. Poi abbiamo Kirill, sempre un altro guerriero. Ah, quindi quelli sulla sinistra sono guerrieri. Dalla forma mi ricorda un po'... un po' Scorchil. E ha... rigenerazione, scintilla fumante e un nuovo scudo, tomba tettonica. Quindi però sarà qualcosa... con lo scudo io vedo una specie di esplosione al centro, mi sembra. Quindi... credo che... che sia una... possiamo dire uno scudo esplosivo. Insomma, poi solo usandolo andremo a vedere veramente che cos'è. Comunque è bianco questo drago sul forum. Ho appena controllato e... in realtà sembrava uno stregone, quindi... ma... Poi abbiamo Deci, con una forma davvero particolare e sembra proprio un cacciatore. E... vabbè... classica abilità di un cacciatore. Mantello, ruba e senza, torna. E poi terremoto. Terremoto deve essere... deve essere figa, mi piacerebbe come abilità. E vabbè... e niente. E nessuna resistenza. Poi abbiamo Ferga, con una specie di ruggito intimidatorio. Segno di guarigione, sovraccarico galvanico e resistenza al cannone. Lo stridore sismico... non ho proprio idea di cosa sia. Quindi neanche starò qui, ma tanto se ne parlerà fra mesi. Di prendere questi draghi e analizzare potere, insomma, per quelli che sono. Abbiamo poi gli stregoni, con... La sequenza di fulmini. Questo sdradica. Buon per chissà che cosa sia. Andiamo a vedere sul forum. Allora, rieccoci. In pratica, questo sdradica... Costa, è una magia rossa. Costa, due di rabbia. E sono delle spine di legno che distruggono la torre bersaglio. E dice, inoltre, che il primo... La prima attivazione di questo potere ricarica un po' di vita. Quindi, sinceramente, non lo so. Potere interessante, però certo che... Muro del Vento, veramente, non... Non lo so. Cioè, i draghi devono dire... Come possiamo farlo un po' più debole, questo drago? Vabbè, gli abbiamo messo questa cosa che è buona e dobbiamo indebolirlo, perché, veramente... Cioè, senza il trabucco va bene. Le altre poterivano bene, però... Non lo so, non lo so. Vabbè. L'ultimo drago abbiamo... Scudo e l'invincibilità sullo stregone. Flusso magico. Rampicanti nocivi. Rampicanti nocivi. È una bella... Una bella abilità, secondo me, perché... Innanzitutto, è bianca. Costa due di rabbia. E dice, praticamente, che crescono immobilizzando e danneggiando le torri che sono affette. E prendono, quindi, il danno. Sinceramente, avere flusso magico che è bianco. E quest'altra magia che è bianca, che non è mica male, ovviamente, scudo l'invincibilità, buono. E molto ovviamente, dicono, come possiamo far più debole questo drago perché gli abbiamo messo poteri interessanti? Mettiamogli la resistenza alla tempesta, che non serve a molto. Bene. Quindi, questi erano i draghi. Per quanto riguarda la season, hanno messo i draghi nuovi. Quindi sono Aster e Morphos. Aster, il nuovo drago cacciatore, e avrà le magie. Ruba e Senza, classicissima, mantello, su uno stregone va benissimo. E poi una sorta di fenice risorta, però qua la chiamano Resurrection. Non dovrebbe essere la stessa cosa, perché, ad esempio, se io vado a vedere su un altro drago, ad esempio su Grumble, che ce l'ha, si chiama Fenice Risorta. Quindi potrebbe non essere la stessa abilità. Però, non lo so. Non so che cosa cambi, sinceramente. Resistenza al ghiaccio. Bah, devo dire che... Allora, le prime due abilità sono ottime, classiche di un guerriero. Proprio a cui vorrei dire, proprio il classico guerriero. Eh sì, guerriero. Cacciatore. Il classico cacciatore, perché Ruba e Senza, dagli Orlog, che l'abbiamo vista, è un'ottima skill. Il mantello, ottimo per fare delle cose tattiche, insomma, distruggere le torri magia. O comunque bersagliare determinati obiettivi e nascondersi. Eh, questo... questa... questa resurrezione, sinceramente, potrebbe essere un buon diversivo. Perché... sto pensando perché non ce l'hanno mai avuto. Di solito ce l'avevano gli stregoni. Non lo so, perché potrebbe essere buona. Allora, sinceramente, la prima impressione che ho avuto è che... Non era niente di che, anzi... Però, poi, se vado a ricordare, ad esempio, su Scarra... Quando aveva il sacrificio, o... la nuova magia flusso magico... Si pensava, si diceva, ma che cos'è il sacrificio? Cioè, diciamo che è una cosa... si spreca la vita... E invece è proprio quello il punto forte di Scarra. Il sacrificio abbinato, appunto, al flusso magico. E quindi... e quindi... Non vorrei che... Mi dà la stessa impressione questa... questa magia. Non lo so, una similitudine. Quindi, attenzione, potrebbe essere molto buona. Poi, abbiamo il drago mitico. Che... Beato chi lo farà. Comunque... Allora, il drago mitico, si vede anche dalla forma qua dall'ombra, avrà determinate evoluzioni. Sia qua di... 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 di stelline che diventano, insomma, ogni volta che uno gli dà... L'uovo verde, poi oro, poi, insomma, a salire. Però cambierà anche di forma, perché l'hanno fatto vedere sul forum, nelle anticipazioni, che avrà una forma simil preistorica e... Probabilmente metterò un'immagine. Poi, piano piano, si trasformerà... Poi, piano piano, si trasformerà... Andando, diventando sempre più... Più evoluto... Finché... Non... non assumerà una forma di... Una specie di farfalla. Adesso non c'è qua, per far vedere... L'ombra, che adesso da ombra sarà diventata, nell'evento, no? Quando si va a vedere i draghi, colorata, insomma. Quindi, cambierà questa forma. Allora, come poteri, abbiamo... Il mantello... Comincio da quelli che conosco. Abbiamo il mantello... Ottimo, direi... Su un cacciatore, insomma, sempre... Ben accetto. Allora, questo qua mi sembra una specie di riduce in polvere, e se non sbaglio, è... Bianco. Poi, abbiamo... Uno spaccaframmento. E che cosa fa? Dice che manda in frantumi qualsiasi edificio ghiacciato per infliggere danni e rigenerare le munizioni. Ah, quindi, praticamente, ricaricherà lo sparo. E... Questa abilità gelone... Allora, in pratica, questa abilità gialla ci fa... Ci dà un'abilità innata, un'abilità, diciamo... Passiva. E nello sparo, quando tocchiamo, il nostro sparo conterrà dei frammenti di ghiaccio che si insinueranno nelle torri nemiche e, grazie appunto a quel potere, lo spaccaframmento manda qualsiasi edificio in frantumi che sia ghiacciato. Questa distruzione dell'edificio farà rigenerare lo sparo e basta. Infligge danni, è ovvio. Quindi, praticamente, noi, tramite lo sparo normale e grazie all'abilità gialla, noi, che non dobbiamo attivare, spariamo alle torri e nelle torri ci si... Magari anche un colpo per una. Noi possiamo, comunque, cominciare a sparare 1, 2, 3, 4, 5 e poi utilizzare il secondo potere che le farà esplodere, le distrugge, dice così, dice proprio manda in frantumi e in più ci ricarica lo sparo nostro. Quindi, molto, molto, molto interessante. Sarà... Potrebbe essere veramente molto ignorante questo drago. Vedremo. Bene. Quindi, hanno fatto l'aggiornamento. Non hanno fatto, diciamo, a parte queste cose, poco o niente, come, ad esempio, se io faccio così, cioè facessi così, mi dice non è più in questo gruppo, non capisco, perché sto schienando nella chat team. Però, vabbè, c'è questa nuova modalità per citare. Quindi si mette in evidenza il nome di qualcuno. Sinceramente non so ancora se arriva una mail o qualcosa, ma vedremo. Ah, un'ultima cosa che volevo farvi vedere la forgia. Mi sono fatto un po' prendere la mano ieri, perché ho eliminato un po' di oggetti, un bel po', e ho 26.000 adesso. Perché, vi dico un bel po', perché, ad esempio, se io vado a togliere un curaveleno, da 14.000. Quindi, immaginate quanti ne ho distrutti. E vi voglio farvi vedere in diretta che compravo una bella accelerazione da 200.000. Questo perché? Perché si vede che costa poi 220.000. Noi la compriamo di nuovo. Aumenta 242.000. Vabbè, facciamo lo sforzo, la compriamo di nuovo. e poi comincia a salire 266.000 e così via. Quindi, insomma, diciamo che è conveniente magari prenderne 2-3, a meno che poi, insomma, certo, se uno c'ha 25.000 e costa 2.200, cioè nel senso 266, pieno pieno, vanno a salire, vanno a salire, magari in fine che costa 300, 400, va bene, pure si può comprare. Bene, ci sentiamo i prossimi giorni per vari aggiornamenti, evento e quant'altro. Se vi è piaciuto il video mettete un mi piace, se non siete iscritti iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video. Ciao!